Salve lettori compulsivi e non, io sono Lady Aileen e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi vi farò ascoltare un estratto che mi è stato richiesto direttamente dall'autrice. Si tratta della ragazza e il cavaliere di Cristina Mora. Ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video e se vi va per i vostri acquisti di usare il mio link di affiliazione Amazon che trovate nell'info box. A voi non costa niente, mentre io avrò una piccola percentuale per migliorare la qualità dei video e contenuti del canale. Grazie! Parte 1. La vita al villaggio. Ecco, grido, violenza. E nessuno risponde. Imploro aiuto, ma non c'è giustizia. Dio mi ha sbarrato la via e non posso passare. Ha coperto di tenebre il mio cammino. Mi ha spogliato della mia gloria. Mi ha tolto dal capo la corona. Giobbe, 19, 7, 9. Capitolo 1. L'incontro. E quando pensi che non ce la fai più a sopportare il peso della vita, è proprio lì che accade il miracolo. Accade proprio dentro di te. Angus. Quel mattino stava scorrendo come sempre. Strano, pensai. Nessun mostro. Nessun'ombra. Kylie, mia nipote, affidatami all'età di sette anni da mia sorella minore, si occupò di sparecchiare il tavolo della colazione e fare un po' di pulizia, perché la polvere aumentava. Di notte, chi si trovava nelle strade poteva venire attaccato dai mostri ombra, che riducevano in sabbia chiunque incontravano. Si nutrivano di insetti, erba, trasformando in cenere tutto ciò che trovavano. Più attaccavano, più diventavano forti e invincibili. Erano il prodotto scontato dell'uso della magia da parte di qualche mago strega nascosto chissà in che pertugio. Tutti ormai lo sospettavano da tempo. Il re era un uomo malato con difficoltà a respirare dopo l'incendio di dodici anni prima, e così suo cugino era salito al potere. La regina era fuggita inseguita da mostri e cavalieri neri portando con sé la futura erede di Praisiland, ed era poi scomparsa nei boschi. «Angus, dovresti venire a vedere. Abbiamo un problema. Ti aspettiamo alla locanda», mi disse Constantin il genero del capovillaggio. Quando lo vedi avvicinarsi sulla strada principale, non potei non notare che camminava con il fango che gli si appiccicava addosso. Gli schizzò ovunque, finendogli sui pantaloni giallo ocra. Percorse in un attimo la distanza a casa del capovillaggio, casa mia. «Mentre mi parlava, potevo vedergli la lingua balzare su e giù tanto si esprimeva veloce. Gli occhi si aprivano e chiudevano, guizzando qua e là. Pensai in quel momento che doveva essere seriamente spaventato. Dalla sua frase ricordai solo la parola «venire» e «problema». Le sue sopracciglia erano increspate in un'espressione torva, rapuiata. Si udì un sibilo sinistro e poi un botto. La casa tremò e Kylie per poco non cadde a terra. Eppure, fin da quando l'allenavo, aveva sempre avuto un equilibrio di ferro. Un altro sibilo, un altro ancora. In un attimo le urla, le fiamme e il fuoco riecheggiavano ovunque. Kai si gettò letteralmente in strada, come era ovvio, curiosa come una volpe. Le urlai «Kai, aspetta!» E allungai anche una mano in avanti, come se quel gesto avesse potuto fermarla in qualche modo. La casa principale del capovillaggio, Cyril, era in fiamme. E anche il forno e il negozio del fabbro stavano bruciando. Poi comparvero. Erano vestiti di nero da capo a piedi, in sella a cavalli anch'essi neri. Erano tanti, troppi perché il villaggio riuscisse a tenervi testa. Kylie, dopo aver schivato uno di loro che cavalcava a gran velocità in mezzo alle stradine e che teneva una torcia accesa in mano, si precipitò in casa. Ma capì solo dopo cosa avesse in mente. Mi diressi verso i feriti e feci allontanare il più possibile le persone dalle case in fiamme. E poi mi voltai a guardare casa nostra. E notai che Kai aveva preso le sue armi preferite e nelle quali eccelleva. Arco e frecce. In gran segreto gliele avevo fatte fare dal mastro fabbro. In segreto, appunto. Perché era vietato addestrarsi al combattimento o forgiare armi per uso personale o per cacciare. Tutta la selvaggina era destinata per la corte e i sontuosi banchetti che i due corvi erano soliti organizzare a spese dei poveri cittadini di Praisiland. Si precipitò contro l'orda di cavalieri neri. Rimasi immobile a osservarli. Ma poi puntai lo sguardo su mia nipote e come un padre le orlai. Kylie, no! Feci qualche passo avanti. Non ero mai riuscito a dissuaderla dall'idea di averle quelle armi, nonostante fosse proibito. Sapeva essere molto cocciuta e testarda. Diceva che un giorno avrebbero potuto tornare utili in caso di qualche attacco. Gli aveva ragione. Quel giorno era arrivato. Una volta si era presentata alla locanda con l'idea di allenare al combattimento la gente del villaggio che lo desiderasse. Avrei dovuto darle retta. Quel giorno ci sarebbe stata utile qualche mano in più che sapeva combattere. Era così perspicace, con un grande senso del dovere e un grande intuito. Aveva ereditato la cocciutaggine dalla madre e l'intuito e il senso del dovere, uniti all'abilità a combattere come un soldato, da suo padre. Si era addestrata da quando era piccola. Aveva iniziato di sua spontanea volontà, ma quando vidi che era piuttosto brava, le trasmisi alcuni concetti e piccoli trucchi imparati da mio cognato. Sono certo che i suoi genitori non l'avrebbero fermata, ma incoraggiate in questo suo talento. E io, dal canto mio, voglio in qualche modo rispettare la loro volontà. Ma ero piuttosto preoccupato. Al villaggio era una delle poche che sapeva combattere, e ora si era lanciata del tutto sola verso i più potenti e malvagi cavalieri che il nostro regno aveva conosciuto fino a quel momento. A tali pensieri rimasi come paralizzato. Ci voleva un miracolo. Intanto, sul sentiero che portava ai boschi, Kai riuscì a colpire alla gamba tre soldati a cavallo che si stavano avvicinando al villaggio e che si disintegrarono al suolo. Riuscì quasi a vedere la sua espressione confusa. Non aveva mai visto quel genere di soldati, al contrario di me. Non c'era dubbio. Si trattava dell'armata oscura della strega della notte. Forgiati con la magia nera. Solo colpendoli con l'armatura del vero credente si potevano sconfiggere. E lei doveva aver chiamato a sé la sua personale spada. Poi si voltò e continuò la sua corsa. Quando dalla stradina principale uscirono tre soldati, questi sembravano diversi. Ma non c'era tempo per pensarci su. Vide Rocai e uno di loro, quello che doveva essere il generale per via dell'elmo imponente, indicandola gridò. Fermatela! Qualcos'altro poi attirò la mia attenzione. Una figura che sembrava un ragazzo e che stava correndo verso di loro. Spero che questo assaggio di lettura vi sia piaciuto. Per scoprire come procederà la storia non vi resta che leggere il libro. Se volete che legga un estratto di uno dei vostri libri preferiti o volete darmi qualche suggerimento o c'è una voce maschile che ha voglia di collaborare con me, scrivetemi nei commenti o sui miei social che trovate nell'infobox. E ricordate, per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere. Michelle Foucault Alla prossima! Ciao!